Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sopra la faccia della terra e furono nate delle figliuole, avvenne che i figli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano piacevoli e se ne presero per mogli tra tutte quelle che più loro piacquero. Allora il Signore disse, il mio spirito non durerà per sempre nell'uomo perché egli non è che carne e i suoi giorni saranno di 120 anni. C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo quando i figli di Dio s'accostarono alle figliuole dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Allora il Signore vide che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra e che ogni divisamento concepito dal suo cuore non era rivolto ad altro che al male tutto il giorno. Di conseguenza il Signore fu dispiaciuto di avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sicché il Signore disse, io voglio cancellare dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, uomo e bestiame, errettili e uccelli del cielo, poiché mi dispiace di averli fatti. Tuttavia Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era un uomo giusto, integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Japheth. Or la terra era corrotta al cospetto di Dio e piena di violenza. Dio mirò la terra ed ecco, era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la propria condotta sopra la terra. Allora Dio disse a Noè, mi son deciso, la fine di tutti i mortali è arrivata, poiché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno resinoso, farai tale arca a celle e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ed ecco come la farai. L'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai all'arca un tetto e un cubito più su la terminerai. Di fianco le metterai la porta. La farai a ripiani, inferiore, medio e superiore. Ed ecco che sto per mandare il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere ogni carne in cui è alito di vita sotto il cielo. Tutto quanto è sulla terra dovrà perire. Con te però stabilirò la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei figli tuoi con te. E di tutto ciò che vive, di ogni carne, fanno entrare nell'arca due fra tutti per sopravvivere con te. Siano un maschio e una femmina. Dei volatili, secondo la loro specie. Del bestiame, secondo la loro specie. E di tutti rettili della terra, secondo la loro specie. Due tra tutti verranno a te per sopravvivere. Tu poi prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e radunalo presso di te e sarà nutrimento per te e per loro. E Noè fece tutto come Dio gli aveva comandato.